A Modena il 25 aprile noi eravamo già liberati perché ci siamo liberati il 22 o il 23. E volevo dire una cosa, l'unica cosa che non sono riuscita a fare, che poi dopo c'era la liberazione. Noi siamo stati tutta la notte alzati per fare una cartina dove dovevano partire i distaccamenti, i gruppi, i battaglioni della nostra circoscrizione. Cioè dove c'erano tutti i nostri GAP. Noi abbiamo fatto per i GAP, i SAP hanno fatto per i SAP e ognuno ha preparato dopo e ha messo tutti d'accordo. La montagna è venuta giù, anche lei aveva i suoi posti da liberare. E siamo stati tutta la notte alzati per fare questa cartina di avanzamento per buttare fuori da Modena i tedeschi e i fascisti, tutti quelli che c'erano, insomma, gli armati. Allora, uno da una parte e uno dall'altra. Io dovevo andare a Paganini, a portare gli ordini, perché ci volevano le staffette. Uomini o donne erano sempre delle staffette che andavano a portare gli ordini, perché non c'erano altri mezzi per poter... C'era stato qualcuno che aveva il telefono, ma noi non avevamo mica il telefono. Allora sono partita, ho fatto con i miei ordini che dovevo andare, perché si sentivano già i cannoni a Bologna, ad esempio. Stavano già, li sentivamo già, i rumori delle bombe che arrivavano, perché c'erano poi anche quelli che bombardavano davanti. Noi a Modena non abbiamo bombardato, perché abbiamo detto, ma a Reggio abbiamo bombardato, a Cavriago dove c'erano i tedeschi, dove c'erano dei comandi tedeschi, eccetera. E parto, vado giù da Via delle Morane per andare su a Paganini, che era un paese verso... Andiamo verso... verso Bologna, Bologna, verso la montagna, insomma, andiamo. E quando arrivo, faccio un chilometro e mi trovo già i tedeschi in ritirata. delle mucche, dei carri, dei cavalli, delle biciclette, avevano un po' di tutto. Qui non si passa, mi fermano e non si passa. Devo andare, lì trovavamo sempre delle storie, un fratello malato, qui o là, insomma, oppure io abito là e devo andare. No, no, niente. E mi volevano prendere la bicicletta e mi ha fatto tornare indietro. Ho dovuto aspettare che arrivi l'ora di trovare quegli altri compagni. Lì, che ci trovavamo poi tutti, quelli che erano andati a dare le disposizioni e tornavamo indietro lì, per aiutare poi a quelli che dovevano difendere la città e che arrivavano. E quella è stata l'unica azione che non sono riuscita a fare.